Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 16 novembre e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e Fuzzimib partendo da quest'ultimo. L'ipotesi che ho fatto ieri sembra essere corretta, infatti stiamo continuando a cercare massimi su Fuzzimib più semplice come cosa perché abbiamo che da qui a qui siamo arrivati comunque già a un 29 barre di inverso e abbiamo superato anche quello che era lo swing che ci dice che probabilmente appunto il T inverso iniziato su questo massimo si era già vincolato a ribasso e sta andando a completare il suo viaggio. Eccoci qua, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e dovremo avere probabilmente ancora un paio di giornate tra oggi e domani di salita minimo, ok? Peraltro abbiamo superato il massimo assoluto a 21.133, proprio questa mattina facendo 21.168. Per quanto riguarda il DAX, situazione differente, però possibile che si vada poi effettivamente a configurare anche in questo caso la cosa di cui stavamo parlando su Fuzzimib, anche se, ripeto, fino a che non verrà superato questo massimo non sapremo se sempre da questo massimo sta partendo poi effettivamente già in automatico il nostro secondo t più 3 inverso primo t più 3 inverso e vediamo se qua sta partendo direttamente, stia partendo direttamente il secondo t più 3 inverso sappiamo che altrettutto per avere un t più 3 inverso come minimo dovremmo scendere per appunto un t più 1 inverso rialzista, ovvero ribassista di indice minimo 12 giorni da massimo a massimo massimo 21 giorni da massimo a massimo per oggi quindi che cosa faremo sostanzialmente? andremo a vedere dopo l'apertura a che punto saremo e ritornando sul Nib qui dovremo vedere dove sarà fatto il massimo e a quel punto dopo una discesa per la partenza del solito nuovo t meno 3 inverso in questo caso il settimo t meno 3 inverso valuteremo se eventualmente prende una posizione temporanea long con le solite misure, ovvero con lo swing, con il tempo, con i volumi anche perché sappiamo che teoricamente da programma anche domani dovremo avere appunto un'ultima candela di salita qui abbiamo appunto 1, 2, 3, 4, 5 dovemo andare sopra il massimo appena fatto o a pari del massimo appena fatto e con una candela che sia appropriata alla chiusura appunto di un inverso qui la stiamo tirando lunga è veramente tendenza molto forte per cui questo è ciò per oggi vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata grazie vi ringrazio per l'ascolto silenzio inglesi